Questa mostra in questo luogo di straordinaria storia, accoglienza, valore etico, sociale, veramente è un coacervo di valori straordinari all'onore di restare dal 25 di ottobre al 20 dicembre, quindi aprendo le porte e i cuori a queste. Opere di grandissimo impatto perché il gesto e il modo di condurre la sua pittura, Safet Ezez, lo trova nella grande dimensione, nella dimensione, oserei dire, mastodontica. Questi sono teleri come lo erano nel grande rinascimento veneziano, periodo a cui si rifà con molta attualità, con molta diversità, ma sempre nel solco della pittura, della grande pittura del Rinascimento. E queste tele ne sono una testimonianza non solo di straordinaria capacità tecnica e pittorica, perché qui parliamo di pittura, pittura nel senso più tradizionale del termine e più grande del termine. In più c'è questa attenzione da parte dell'artista alla contemporaneità che viene tradotta in pratica dal trattamento che lui fa alle sue tele che vengono attualizzate proprio attraverso una stratificazione di fogli di giornale che rappresentano la cronaca e i riferimenti che poi spesso si ritrovano nei suoi soggetti. Queste tele sono pensate per poter occupare lo spazio soltanto con se stesse senza bisogno di una struttura, di un telaio. Quindi l'allestimento si è voluto concentrare sull'essere il più possibile fatto soltanto di opera, spazio e luce, senza inserire nessun elemento visibile che desse il senso della presenza di un progetto, nessuna struttura che in qualche modo volesse dire ulteriormente la sua, specialmente in un contesto dove c'è già una così forte presenza di messaggio. Abbiamo scelto di affrontare il tema delle migrazioni e di sottolineare un evento tipico della nostra congregazione salesiana, e cioè la centocinquantesima spedizione missionaria che abbiamo vissuto proprio un mese fa, a partire da questa Basilica di Maria Ausiliatrice in Torino. E questa mostra ci è sembrato il giusto compimento per dare ancora una volta non soltanto visibilità ai fratelli e alle sorelle che sono stati inviati verso terre lontane, ma dare visibilità anche ai giovani e alle diverse popolazioni che riceveranno beneficio a partire dalla presenza di questi amici, figli di Don Bosco, che si sono recati per recare sollievo in queste situazioni davvero tanto faticose. Ci è sembrato importante dare accoglienza a queste opere che sono sicuramente l'occasione per una riflessione approfondita. Vengono qui in Basilica non solo come pellegrini, ma anche come curiosi e visitatori, tantissimi giovani, adulti, davvero di ogni età. E ci è sembrato che l'impatto della bellezza espresso attraverso l'arte e attraverso quest'arte che esprime anche tanta fatica, dolore e sofferenza, possa essere un giusto richiamo per una riflessione più approfondita. Pensiamo davvero che tantissimi ragazzi, giovani e adulti, venendo a visitare la Basilica di Maria Ausiliatrice, il luogo che, anche con tanta fatica, Don Bosco ha voluto, anche come origine e fondamento della sua azione educativa, possa in qualche modo costituire una nuova opportunità per imboccarsi tutti quanti le maniche, intervenire in favore delle persone più bisognose. Le opere di questo artista sono di una forza straordinaria. Quello che mi colpisce particolarmente e che sento vicino come salesiano e come impegnato ad aiutare giovani poveri, è che questo artista rappresenta sempre molte persone le persone, le presenti in una situazione drammatica ma non disperata. Sono persone che hanno sofferto, che stanno soffrendo, ma che si danno una mano. Ci sono sempre delle mani, delle braccia che danno un aiuto a qualcun altro. Per noi questo è fondamentale. I salesiani in questo momento sono presenti in 133 paesi del mondo. Un centinaio di questi paesi sono paesi in via di sviluppo, quindi le opere salesiane presenti in questi paesi hanno bisogno di essere aiutate. Molte sono anche opere giovani perché siamo una congregazione in continua espansione, quindi quando un'opera nuova nasce ha bisogno di essere aiutata. E la solidarietà avviene attraverso quelle opere come quelle che sono presenti in Italia, che hanno una condizione economica più agevolata e che hanno molti benefattori che possono aiutare tramite Missioni Don Bosco proprio l'inizio delle nuove presenze di Don Bosco. Il progetto Stop Tratta è nato quattro anni fa da due organizzazioni nostre salesiane, Missioni Don Bosco-Valdocco qui a Torino e il VIS, la ONG, che abbiamo come salesiani a Roma. Insieme abbiamo deciso di fare qualcosa di concreto appunto per dare una soluzione possibile al fenomeno della migrazione. Aiutare direttamente i giovani che si trovano nei paesi dell'Africa subsahariana a realizzare una propria competenza specifica da spendere nelle condizioni economiche del proprio paese senza dover avere come unica possibilità per il futuro quella di emigrare.